Una tecnica mai sperimentata in Italia, l'equipe del professor Giampaolo Bianchi, direttore del reparto di urologia del Policlinico di Modena, ha operato un uomo di 59 anni di Castelfranco Emilia per un calcolo del rene di un centimetro e mezzo di diametro con il Microperc, un sistema altamente innovativo che ha permesso di frantumare i calcoli grazie ad una microfibra laser introdotta tramite un foro le cui dimensioni sono simili a quelle della punta di un nago di una silinga. Un perfezionamento tecnologico di una vecchia tecnica che è la litotetrisia percutanea, una tecnica che è stata introdotta negli anni Ottanta e consente di entrare nelle vie scrittrici dal fianco, pungendo il rene con un nago e poi dilatando questo canale fino alle dimensioni di un centimetro per consentire l'introduzione di una camicia, di un sistema ottico che consente di vedere i calcoli e di frantumarli in varie maniere. Grazie all'innovativa tecnica e residui del calcolo renale saranno eliminati naturalmente con le urine, il paziente è già stato dimesso. In cosa si differenzia la Microperc? Si differenzia rispetto alla percutanea nell'estrema miniaturizzazione del tutto. Se si pensa che si passa da 10 mm di tramite, di canale, si passa a 1,8 mm, praticamente il diamo di un nago.